Dopo la lungimirante idea del vivaio nell'area dell'ex Agip che danneggerà le attività economiche del centro storico, ecco un altro aiuto a famiglia e attività, gli stalli blu a Lido e alla Sassonia. La Lega Fano torna alla carica e critica la scelta dell'amministrazione comunale di trasformare tutti i parcheggi del lungomare a pagamento da questa estate. I consiglieri chiedono di bloccare i lavori iniziati da poco e di rinviare la scelta al prossimo anno. È difficile dire ai cittadini le motivazioni che hanno portato a questa decisione, perché è una decisione che sicuramente non giova ai residenti che vedono questo pagamento come una scocciatura, sicuramente non giova e non gioverà ai turisti perché non capiranno la convenienza di dover parcheggiare qui e poi continuamente intervenire per aggiornare la tariffa. Non giova nemmeno ai commercianti e alle imprese del territorio perché vedranno diminuire l'accesso dei turisti e dei clienti, perché questa soluzione non migliora l'accessibilità a questa zona, quindi praticamente è un depauporimento. A chi giova lo sappiamo, serve semplicemente per aumentare la cassa, fare cassa alle spalle dei cittadini e degli utenti. Inoltre per i consiglieri dopo il flop dei parcheggi a pagamento lungo via Le Gramsci che stanno continuando a provocare disagi, il Comune ha preso un'altra decisione senza aver coinvolto i residenti e le attività economiche. Vergognoso, hanno dichiarato che in un momento come questo la giunta di centro-sinistra preferisca aggiungere un'ulteriore tassa non contenta dei 16 milioni di avanzo. Come Lega hanno scritto in una nota, avevamo proposto di realizzare dei parcheggi con disco orario per permettere una maggiore rotazione oppure di predisporre delle navette nei parcheggi scambiatori, in particolare per i turisti e chi raggiunge la zona balneare dall'entroterra, ma siamo stati inascoltati ed erisi. Voglio anche ricordare e non dimenticare le persone più deboli, anziani oppure famiglie numerose che ovviamente dovendo venire al mare hanno problemi a dover parcheggiare lontano. Quindi ecco, diciamo c'è la solita carenza di questa amministrazione che non ha una visione, che non propone dei progetti ad ampio respiro, ma risolve il problema spot senza trovare una soluzione ottimale. Quindi praticamente scontenta tutti e fa contento solo le casse del comune.